Dopo 84 anni il lampadario etrusco esce dal Maec di Cortona per essere al centro della mostra il lampadario di Cortona dal collezionismo delle origini alle raccolte contemporanee presso la fondazione Luigi Rovati di Milano nel museo di Corso Venezia dove resterà dal 14 dicembre al 5 marzo. Il lampadario di Cortona rinvenuto nel 1842 fino ad oggi era stato prestato solo nel 1938 per la mostra del minerale italiano realizzata al Circo Massimo di Roma. Per questa ragione il prestito deciso in favore del museo Lombardo è un atto estremamente rilevante. Attualmente al posto dell'originale nel museo di piazza Signorelli è esposta una riproduzione del lampadario etrusco effettuata recentemente con la tecnica della stampa 3D. L'inaugurazione dell'evento milanese vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell'amministrazione comunale dell'Accademia Etrusca. La fondazione Luigi Rovati aveva già collaborato con il Maec in occasione della mostra Luci dalle tenebre del 2021.